La vita sul nostro pianeta è frutto di una continua coevoluzione tra gli organismi e i loro ambienti, secondo modelli di sempre maggiore complessità e reciproca integrazione. Così la parola biodiversità contiene un riferimento complessivo al numero, alla varietà e alla variabilità degli organismi viventi. Essa è essenzialmente sinonimo di vita sulla terra. La diversità è dunque il tema centrale della natura. La specie umana è soltanto uno dei tanti ramoscelli dell'albero della vita. Una comune origine lega tutte le forme di vita attuali e quelle ormai estinte. La nostra è una storia lunga 3,5 miliardi di anni. Le strategie attuali di tutela della natura sono orientate a mantenere e rafforzare i processi naturali dai quali dipende la salute degli ecosistemi, spostando il fulcro delle politiche ambientali dalla tutela delle specie alla tutela degli habitat, dalla tutela di singoli siti alla tutela degli ecosistemi e infine dalla dimensione nazionale a quella internazionale. La direttiva habitat emanata dalla comunità nazionale. europea nel 1992 ha promosso l'istituzione di Rete Natura 2000, un sistema di aree protette denominate siti di interesse, in cui sono presenti gli habitat e le specie europee di maggior rarità e interesse, che richiedono una protezione rigorosa per poter essere tramandati alle future generazioni. Oggi è diventata la rete ecologica più grande al mondo, con oltre 25 mila siti in tutta Europa. In Basilicata cinque grandi fiumi, come le dita di una grande mano, intagliano montagne, erodono colline, si espandono, serpeggiano fino al mare. Nell'intercalarsi di paesaggi diversi ed interconnessi, i siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale ricoprono il 17,1% del territorio lucano. Essi costituiscono i punti nodali della rete ecologica della Basilicata. Quasi il 50% della Basilicata è costituito da montagne che si elevano al di sopra dei mille metri. Sono i luoghi dove i corsi d'acqua prendono vita, tracciando solchi sin dalle vette più alte. In montagna è sempre visibile il limite del bosco, un confine che da lontano sembra netto, ma che avvicinandosi diventa una sfumatura disegnata dalle tenue ramificazioni degli arbusti. Ginestre, clemati di piumose, pruni, rose e biancospini segnano i bordi dei boschi fino a limitare dei prati. Luoghi fecondi, gli arbusteti facilitano il ritorno del bosco. Le montagne sono ambienti dinamici, i processi erosivi mettono a nudo gli affioramenti rocciosi. Accumuli di pietrame si alternano a praterie costituite da piante in grado di sopportare drammatiche escursioni termiche e una notevole aridità estiva. La diversità di habitat della montagna è accresciuta dalla tradizione millenaria di utilizzare le praterie ad alta quota per il pascolo brado. Il morso del bestiame modella la vegetazione legnosa e controlla le dinamiche naturali di molti pascoli che, in assenza del bestiame, lascerebbero il passo al bosco. Anche nelle zone di abbeverata si realizza una straordinaria interazione tra pastorizia e natura. Gli specchi d'acqua frequentati dal bestiame sono mosaici di piccoli habitat dove la vegetazione spontanea e gli animali selvatici si organizzano in comunità diverse in relazione al livello dell'acqua e all'intensità del calpestio. Il bosco prevalente nelle aree montane è la faggeta. Il faggio è un albero imponente che difficilmente lascia posto ad altre specie erboree. Tutti i faggi sono collegati tra loro da una rete di relazioni che si stabiliscono nel sottosuolo tra gli alberi e svariati microorganismi. Ad ogni inverno il fogliame dei faggi si accumula al suolo fornendo materia organica per la formazione dell'humus. Le specie del sottosuolo traggono sostentamento dai faggi e a loro volta li aiutano ad assorbire acqua e sali minerali. Molte sorgenti sono state trasformate dall'uomo in abbeveratoi. Nelle vasche è facile incontrare specie acquatiche divenute oggi ormai rare. A quote inferiori rispetto alle faggete è il regno dei querceti. Cerro, roverella e farnetto abbondano nei boschi della fascia collinare e submontana della Basilicata. Le querce sono alberi longevi e maestosi con un'ampia chioma densa e irregolare le cui foglie occupano lo spazio con regole precise alla ricerca della luce. I boschi di querce sono stati utilizzati dall'uomo per millenni. Essi hanno offerto all'uomo legna da ardere, materiale da costruzione, carbone, ghiande per l'alimentazione degli animali. Numerosi querceti sono stati diradati fino a diventare pascoli arborati, dove il bestiame trova ristoro nella calura estiva. I querceti in effetti si identificano con i luoghi più vicini all'evoluzione culturale e tecnologica della vita rurale. E sono proprio questi ambienti collinari, con suoli profondi e ricchi di nutrienti, che hanno assistito alla nascita e allo sviluppo dell'agricoltura. Piccoli appezzamenti di terreno, colture diversificate fra miste a spazi naturali, caratterizzano il territorio delle aree interne della Basilicata e rappresentano agroecosistemi di grande valore, essenziali per il mantenimento degli equilibri ambientali di questo territorio. dai ruscelli montani alle ampie fiumare di Fondovalle, l'acqua attraversa il territorio lucano, dando luogo ad ambienti di spettacolare bellezza. Nella fascia collinare, la vegetazione riparia forma spesso vere e proprie gallerie di salici, ontani e pioppi, che svolgono una funzione molto rilevante nel potenziamento della capacità autodepurativa delle acque fluviali. Scorrendo, le acque si ossigenano. Tra gorghi, mulinelli e nelle anse meno turbolente, numerosi animali acquatici trovano riparo e nutrimento per svolgere il loro ciclo vitale. Forma tipica di molti corsi d'acqua meridionali, la fiumara è il risultato dell'azione erosiva di corsi d'acqua a regime torrentizio, caratterizzati da notevoli variazioni stagionali della portata. Ne derivano letti alluvionali larghi e piatti, con spesse coltri di depositi a granulometria variabile. Una siccità persistente, ampie escursioni termiche e temperature diurne molto elevate rendono ardua la vita nei calanchi. Li ricopre una rada vegetazione. Grigi cespugli di Atriplex alimus si alternano a ciuffi di Ligeum spartum, una graminacea tenace dotata di robusti rizomi che colonizza i pendii e le più impervie di questo ambiente estremo. Bianchi, monotoni, calcinosi li definiva Carlo Levi. I calanchi sono forme di erosione nelle aree collinarie argillose. Simili a paesaggi lunari sono attigui al medio corso delle grandi fiumare della Lucania sudorientale. A limitare del giorno volteggiano maestosi i nibi reali. Per tutta la giornata hanno cercato cibo, piccoli roditori e rettili. Ora, sul finire del giorno, si raggruppano, percorrono le deboli correnti ascensionali e si dirigono verso i grandi alberi sul bordo del fiume. Con 14 siti dormitorio e poco meno di 700 esemplari, il Nibio Reale ha in Basilicata la popolazione più numerosa d'Italia. Sulla costa metapontina la vegetazione delle dune segue il ritmo dei venti. La mammofila, una graminacea dotata di potenti apparati radicali, limita il movimento incessante delle sabbie costiere, contribuendo alla formazione delle dune litoranee. Le foglie del pancrazio, o giglio delle sabbie, ospitano i bruchi di Britis crini, una farfalla le cui larve si cibano unicamente delle foglie carnose di questa specie. Le fioriture maestose dell'estate sono ormai terminate e per molte specie delle dune, dove, apparentemente, la vita si interrompe. Sulla costa ionica i cinque grandi fiumi della Basilicata hanno le loro foci. Ma prima di perdersi nel mare, alimentano acquitrini, canneti, boschi, dove in autunno gli storni si raggruppano in voli rocamboleschi, prima di cercare un riparo sicuro per la notte. In Lucania, a fronte di una superficie pari allo 0,25% del totale della comunità europea, sono stati censiti 61 habitat dei totali 231 menzionati dalla direttiva Habitat. Questa regione rappresenta pertanto un luogo di estremo interesse per le strategie europee di tutela ambientale. La conservazione della natura e del paesaggio è il primo passo, preliminare ma essenziale, per il governo del territorio e per la salvaguardia di un bene insostituibile, un bene comune che riguarda tutti. Il progetto Rete Natura 2000 di Basilicata e la Rete Ecologica Regionale hanno posto le basi solide per supportare la Basilicata verso i mondi possibili dello sviluppo sostenibile. Rete Natura 2000 è un valore per tutti coloro che vivono nel territorio. È necessario avere consapevolezza di questo valore per poterlo riconoscere, amministrare, promuovere e difendere. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie a tutti